Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 direttissima questa notte, in orario 21.6 per lavori in galleria, sarà chiuso il tratto tra Aglio e l'allacciamento con l'A1 panoramica in direzione Bologna. In A11 fino a domani alle 18, entrata chiusa per lavori a Chiesino Zanese in direzione Pisa. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, fino al 16 dicembre per ripristino di marcia piedi e carreggiata, saranno in vigore divieti di sosta e di transito e sensi unici in via Reginaldo Giuliani, via Del Sodo, via Braccini e via Baroni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!